Adesso volete provarci voi? Scommetto che potreste impararlo in pochissimo tempo. Ti hai fatto venire fino a qui solo perché stai cercando dei nuovi allievi che non mi interessa. Non mi interessano le sue tecniche di autodifesa. Come osate rivolgervi così al mio maestro? Io so il suo allievo migliore! Mi arrendo! Avevo sentito dire che il tuo dojo era pieno di abili combattenti. Tempo fa uno di loro si è scatenato. Altri si sono addirittura ritirati in massa per quanta paura hanno avuto. Come si chiama? Garo. Poi ho dovuto dargli una bella lezione e l'ho cacciato. Ma allora sei ancora forte, nonni... Imbecille! Voi siete solamente due novellini appena diventati eroi, dico bene? Sta così, Charan. Sai, Tamasi è dimostrato molto più forte di me. Ma... Grazie. 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 Grazie.